Abbiamo voluto chiamare anche il cugino di Magnum P.I., Magnum P.U.S.E., diciamo. Ladies and gentlemen, questo è Can Be Satisfied, versione Parabyac. È un piacere veramente essere qui con voi, perché ha preso l'acqua, e la lasciata sul balcone e la ferma. Questo qui si chiama Ukulele, si chiamava originariamente Lele, però poi qualcuno vi si fa Ukulele. Questo qui una volta, ma vedi ci sono ancora le cartine, questo qui aveva detto le caramelle sperlari, quelle lì. Però ha un bel suono, questo qui è adatto, adattissimo a Can Be Satisfied. Versione acustica, attenzione, forse lontano non sentirete molto, dovete avvicinarvi. Di solito noi andiamo in giro, però questo parco è veramente enorme e abbiamo paura di perderci. Can Be Satisfied. Animo, Animo, Animo. Di solito noi andiamo. Animo, Animo, Animo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.